Serve stabilire la potenza dell'arma che occorrerebbe per poter distruggere la città. Pronti? Via libera! Regoliamo! Come copi da laboratorio! Contagiati dalla loro follia! Siamo noi, capro e schiattorio, per l'esercito della borghieghia! La vita è la distrutta d'arma! La vita è la distrutta d'arma! Tra le materie non c'è anima salva! La vita è la distrutta d'arma! 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 Tra le materie non c'è anima salva! La vita! La vita è la distrutta d'arma! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!